ok ok certo che siamo d'accordo 10 milioni 5 milioni non bastano per la battaglia non servono almeno 10 facciamo anche noi prendiamo 10 va bene, mi serve una buona cifra allora siamo d'accordo alla sua salute alla sua ah non lo sanno si, si lo scontano lo scaldomaglio presto chi è? sono straifoghe straifoghe lo vi chiede? è la sola? no, l'ha aspettato mi sono venuto qui per porne un quesito si dice in giro che lei abbia acquistato il vecchio asilo del paese è vero? asilo? quale asilo? non faccia il fulcro sono costretto a convincere con altri milioni ok lo ammetto ho comprato un asilo l'ho comprato solo perché lo voglio mettere a posto perché io sono una persona retta pura, pia guarda quali sono le mie letture discepoli di Gesù tutte cattate piuttosto non finirà così non questa volta non se la calderà vedrà che me la calderò questa volta ma io sul suo conto ne capisco sempre meno comunque sono nel mio complicatissimo caso addio ma un bicchiere aspettava visite? no molto lievito presto venga Don Nicola sei andato chi è? era strappone che cosa voleva da me? ma chi è scolo dell'asilo lo sa già non non